Uno dei tuoi progetti nella tua carriera che ti ha reso particolarmente fiero. Il brand che sto avviando come sorella gemella Chiara, che si chiama Kiglo. Vestire a Beyoncé, Kylie Minogue e Madonna. Il set di una sfilata che poi è diventata tutta... è dal tema dell'India e poi è diventato tutto bianco come l'avevo immaginato totalmente. Hai mai rubato anche un'idea creativa? Rubato no, ho preso ispirazione, qualche dettaglio che mi ha particolarmente ispirato. Rubato mai. Sì, mi sono ispirato tantissimi in gente che mi piace, in oggetti, in arte. Non è rubare, è cambiare. Prendi e lo interpreta la tua forma e già l'hai cambiata. Io sono la mia identità. Io sono la mia identità. Io sono la mia identità.